lolololol i dati gli undici ma ben tornato eh ce l'ho ma sono tutte co amiche mie che a volte parano eh beh scopavi io l'ho vista io l'ho vista tutto marzo però con te mi sa pure lolololol i dati gli undici del maestro ma dooo coccco chi era lei raga l'ex di redd un ex di redd me la ricordo che è vero tu marzo qua stavi a punta al cazzo comunque no no io ho mai toccato la ragazza di un amico bro io ma lello x bro guarda è tumorato a lui c'è comunque rega comunque non so se è triste o bello il fatto che ci abbiamo il fatto che tipo l'80 per cento delle foto sono tipo solo foto tra di noi se non sembrava che non avevamo una vita ma è vero bro realmente ci mancherebbe altra oddio sfida del nasi con zano ok qui qui era preso la il momento in cui doveva per forza carica no me l'avevano fatto sì madonna santa bro qua noi siamo andati a giocare a pallone anzi qua c'è un aura che non c'ha senso è allucinante pure il fazione fra te aura full laura si è quello andammo a giocare a pallone pazzesco paolo cannone è un evento a bari era questo ma guarda al maestro quante foto maestro bianco e nero inculato palesemente maestro guanciale ma che capelli t'hai rifatto fa frate ma qua io c'ho un crocifisso al collo giamanzo se hai notato un crocifisso al collo giamanzo dove era il momento johnny depp io ragazzi ero estremamente per andare in chiesa foto in bianco e nero coi pacchetti di sigarette che era il regalo dei mimati grazie di tutto ma come grazie di tutto bro io non ti so dire ma quando al maestro quanti amici che c'aveva ma questo è un post tumblr con le frasi tipo questo non è mai cambiato ce l'ho sempre avuta la pizze non è che mi piacciono le tre maestro il mio doppelganger ragazzi uscivo una volta che non avrete è come soffrire la fame e dentro divento nero come il catrame c'è non è che uno ma guarda quella che gli commenta se il top non sta il ciolone qua abbia di stava tutto tambra il messa guarda solo foto con fighe ma quando ho detto che io conoscevo solo donne io conoscevo solo donne bro per quel c'è dalla gas per i tre bentornato loro gas per gli undici ragazzi la gente sta andando nelle foto a commentare stupratore ora basta lascia stare mia sorella ma che cosa sta facendo poi che non c'è neanche una donna in quella foto è stupido una foto di johnny greca questa quando poi cancella mi raccomando cazzo se ricordava da avercela guarda che facevo guarda che facevo i test della patente vai sopra ma come i test della patente si sopra c'è stanquist della patente la spessione di lsd con l'anfite non compromette la facoltà di guida avrò messo falso no avrò messo ah no vero ma che ho chiesto oiii ma tu guarda bro eeeh cioè guarda la barba si a me ti andava in giro con i cappelli che mi piacevano a me il maestro più di un film più di un drink più di una marioana più di un trip di stamiz mezza brasiliana venga undici settembre 2013 questi sono vecchi mamma mia la marza pollice poi sembrava un j ron no frate qui è la marza pollice frate guarda guarda questa foto è uguale la posso fare uguale così eccola madonna ma non lo riconosca il maestro mi fa troppo strano raga ero piccolo 2012 t'ha preso Julian Draxler 30.000 sabbete tagli la barba oh l'ho già detto il giorno che è qui te lo faccio è stato gratis guarda quella foto qua c'avevo 18 anni a destra avevo fatto 18 anni ah marzo eri proprio quello che se incontravo per strada cambiavo strada guarda andavo dall'altra parte ma se mi incontravi per strada mi chiedevi a quanto te facevo a 10 euro quella ma spacciavi pure coca? no per l'amor di dio mai spacciato io marzo non sembri serio ma non sto stai ridendo mentre non ci mancherebbe no comunque questa qui mi ricordo no va un po' più sopra ci mancherebbe mi ricordo un po' più sopra sulla sinistra c'è una foto con una tipa bionda un po' più sopra ancora gli avevo provato al marzone eppure a fammi ci metto in contatto c'è più fidanzata sta bastarda ma comunque non è ah si guarda quella andrafinaro stavo a casa del fazzone quella a destra andrafinaro ma ricorda andrafinaro me slide up ma chi è che non se l'è passata andrafinaro ma chi se l'è passata ma che cazzo di però porco dio ma non è il sciarpapato ma perché me l'avrò presa da una di quelle non lo so sempre in mezzo alla figlia ma è incredibile sempre ma zesco ma zi di che potremmo farsi i cazzi in attimo secondo me sai chi è uno di cristiano io non ho mai buongiorno